Ciao bambini e bentornati! Oggi i nostri amici prepareranno dei regalini di San Valentino. Iniziamo con Gattoboy! Beh, ma certo! Gattoboy, per chi è questo regalo? Ecco, vorrei fare un regalo a gufetta! Molto bene, che cosa vorresti fare? Lo sai già? Vorrei fare un cuore pieno di rose! Ma che bella idea! Allora facciamolo subito e prendiamo il Play Doh! La base del cuore la facciamo rosa. Prendiamo quindi il Play Doh rosa. Lo ammorbidiamo un pochino ed ora va steso con il mattarello. Lo stendiamo un pochino. Ecco fatto, così può bastare. Ora con lo stuzzicadenti andiamo a tracciare la sagoma di un cuore. In questo modo. E togliamo l'eccesso. Basta semplicemente andare a tirare il Play Doh in eccesso. Ecco fatto, ora il cuore va rifinito meglio. Quindi andiamo a delineare i contorni facendo una leggera pressione. E anche di qua. Ora questo cuore deve rappresentare Guffetta. Quindi facciamogli le ali. Prendiamo il Play Doh rosso. Ne prendiamo un pezzo. Ed ora stendiamo con il mattarello. Ecco fatto. Andiamo ora a tracciare un'ala di Guffetta. Quindi facciamo le sue ali. Molto schematiche. Questa è una. Ed ora togliamo l'eccesso. Possiamo anche aiutarci con un coltellino. Ed ora questa ala l'applichiamo qui. E facciamo un po' di pressione. Dobbiamo fare anche l'altra. Quindi stendiamo il Play Doh rosso. E lo stendiamo come abbiamo fatto prima. Tracciamo il disegno. Facciamo le sue piume. Ed ora togliamo l'eccesso. E quest'altra l'applichiamo di qua. In questo modo abbiamo un cuore che va a richiamare Guffetta. Ora vorrei fare il contorno con delle rose rosa. Ok, iniziamo a fare delle roselline rosa. Per fare una rosa basta prendere il Play Doh. Fare una strisciolina. In questo modo. La appiattiamo. Quindi schiacciamo con le dita. Non occorre che sia perfetta. Ecco fatto. Ed ora iniziamo arrotolando. E tiriamo un po' verso fuori. Basta solo arrotolare. È molto facile. Ecco la prima rosellina. La mettiamo qui sul contorno. Ci aiutiamo con la colla. Basta un po' di colla alla base. Ecco fatto. Ne facciamo tante altre. Possono essere anche di diverse dimensioni. Quindi strisciolina. Appiattiamo. Ed ora... Si rotola la strisciolina. Rotoliamo. E chiudiamo. Abbiamo fatto un'altra rosa. È facile, no? Abbiamo completato il contorno con le roselline. Ora dobbiamo fare l'interno e facciamo delle rose rosse. Prendiamo quindi il play-doh rosso. E iniziamo come abbiamo fatto prima. Prendiamo quindi un pezzettino. Facciamo una strisciolina. Appiattiamo. E arrotoliamo. E arrotoliamo. Ecco qua. Una rosa rossa. E andiamo a riempire il cuoricino. È davvero molto facile. Potrebbe essere anche un'idea come decorazione per la vostra cameretta. Il play-doh lasciato essiccare diventerà duro. E si potrà appendere. Giriamo. Ed ecco un'altra rosa. Prendiamone ancora. Ecco qua. Arrotoliamo. E mettiamo un'altra rosa qui. Ed ora l'ultima. Striciolina. Appiattiamo. E arrotoliamo. Ecco fatto. Ti va bene, Gattoboy? Certo. Sono molto contento. Sono soddisfatto. Allora prendiamo il regalo di Guffetta. E lo mettiamo da parte. E poi glielo donerai, Gattoboy. È molto bello. Complimenti, Gattoboy. Guffetta sarà proprio contenta. Ed ora, Sam, vuoi fare tu un regalo? Certo, va bene. Lo faccio io. Per chi è il tuo regalo? Voglio farlo a Dotti. Molto bene. Che cosa vuoi fare? Voglio fare un cerotto da appendere in camera. Con un cuoricino. D'accordo. E allora, prendiamo il bianco. Ecco il play-doh bianco. Lo ammorbidiamo un pochino. Poi facciamo un serpentone. In questo modo. Ed ora, appiattiamo. Possiamo anche usare un mattarello. Ecco qui. Ora, andiamo a fare i contorni del nostro cerotto. Quindi, dobbiamo appiattire i lati. E arrotondare le estremità. Ecco fatto, così può andare. Ora, prendiamo il viola. So che a Dotti piace il viola. E andiamo a fare la parte centrale. Facciamo una pallina. Appiattiamo. Ed ora, cerchiamo di farlo diventare un quadrato. Con gli angoli arrotondati. E un quadrato con gli angoli arrotondati. Lo mettiamo al centro. E lo facciamo aderire. Ora, prendiamo dei piccoli pezzettini viola. Facciamo una pallina. E iniziamo a metterli qui, a lato. Uno. Due. Un altro centrale. Tre. Quattro. E cinque. Stessa cosa di là. Facciamo delle altre palline. Quindi su questo lato. Una. Due. Tre. Quattro. E cinque. Ed ora farei il cuoricino rosa. Non penso che il rosso ci stia molto bene con il viola. Prendiamo quindi il rosa. Facciamo una strisciolina. In questo modo. La pieghiamo. E la uniamo così. E schiacciamo le estremità. Ecco che si è formato un cuore. Ed ora il cuore lo mettiamo qui, al centro. Ed ecco abbiamo il nostro cerotto per Dotti. Fantastico. Piacerà molto a Dotti. Mettiamolo qui. Ed ora tocca a te, Romeo. Sono pronto. Voglio regalare a Lunetta un cuore di slime. D'accordo. E di che colore lo vuoi fare il cuore? Facciamolo azzurro. D'accordo. Faremo un cuore azzurro. Diamo quindi il play-doh azzurro. Ecco qui. Iniziamo a fare un serpentone. In questo modo. Non deve essere troppo sottile. Ora lo pieghiamo così, come abbiamo fatto prima. E appiattiamo. In modo da creare facilmente un cuore. Ok. Ora l'interno va scavato perché va riempito di slime. Quindi prendiamo un attrezzino per play-doh. Oppure un cucchiaino. E andiamo a fare il contorno del cuore. In questo modo. Ed ora eliminiamo una parte di play-doh. Dobbiamo quindi scavare. Togliamo il play-doh all'interno. Ed ecco fatto. Ora inseriamo lo slime. Ed ecco qui dello slime. Inseriamo qui dentro. Ecco fatto. Abbiamo creato un cuoricino che contiene dello slime. E questo sì che è un bel regalo. Non come il vostro. Ma io preferisco il mio. È più romantico. Ed ora quindi chiamiamo Gufetta, Dotti e Lunetta. Eccoci qui. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Gatto Boy vuoi iniziare tu? Ma certo. Ecco Gufetta. Ho un regalo per te. Per me. Ecco un piccolo pensiero. Puoi appenderlo in cameretta. Ecco qui Gufetta. Il mio regalo per San Valentino. Cosa? Ma è bellissimo. Un cuore con le ali e le rose con i miei colori preferiti. Ti piace? Certo Gatto Boy. Grazie. Sono davvero felice. Ed ecco qui. Quindi il tuo regalo Gufetta. Sam, hai qualcosa per Dotti, giusto? Giusto. Dotti, ho un regalino per te. Davvero? Mi hai fatto un regalo. Eh sì, ecco. Guarda, ho un piccolo pensiero. Potresti appenderlo in clinica magari. Ma che bella idea. Un cerotto con un cuore. Mi piace tantissimo. Grazie, Sam. Sono contento che ti piaccia. Ed ecco quindi il tuo cerotto, Dotti. Ed ora tocca a me, Lunetta. Guarda che cosa ho inventato. Che cosa hai fatto? Un cuore di slime. Vediamo. Oh, guarda che strano. Wow, Romeo. Mi piace molto. Viscido al punto giusto. È meraviglioso. Grazie. Adoro lo slime. Siete stati bravissimi. I regali erano tutti fantastici. Ed ora grazie per aver giocato con noi. Lasciate un pollice in su. Iscrivetevi al canale. E cliccate qui per vedere tanti altri giochi con tutti i personaggi dei vostri cartoni preferiti. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao.